salve a tutti signori bene oggi cosa andiamo a parlare andiamo a parlare dello smartphone della brondi ma non sarà una recensione di come dico me cosa non ha ma bensì di come funziona bensì del primo avvio in molti mi avete chiesto ho acquistato il mio smartphone per i genitori per me per qualsiasi persona e adesso non so cosa devo fare benissimo anche se per noi sembra così semplice andare a mettere un account una password o creare un account per altre persone non è così semplice e quindi ho deciso di fare questo video sarà un po lungo ma almeno andiamo a vedere cosa dobbiamo fare allora vediamo il nostro smartphone in questo caso della brondi che è il pocket e ci dice inizia bene andiamo a selezionare innanzitutto la lingua in questo caso mettiamo italiano facciamo inizia dobbiamo connetterlo alla rete quindi andrò a collegarlo al mio wifi bisogna disporre comunque di una linea wifi o adesso io metto la password io adesso connettendosi connettendosi inizierà a scaricare giù tutte le nostre gli aggiornamenti o altre impostazioni e dopo dovremmo andare a mettere un account un account che cos'è un indirizzo email in questo caso di gmail vedete che adesso lui si è connesso mi da preparazione telefono in corso appunto sta scaricando giù tutti gli aggiornamenti o le varie funzioni che gli possono servire per funzionare bene adesso qua c'è scritto operazione può richiedere dei minuti io accelero un po i tempi eccoci qua quindi abbiamo fatto adesso lui ha fatto tutti i suoi controlli adesso mi dice copia app e dati allora se abbiamo già uno smartphone e quindi già anche un account possiamo dire copia io andrò a mettere il mio account gmail e la mia password e lui inizierà a spostarmi tutto il backup che ho fatto nell'altro cellulare c'è tutti i dati che io ho salvato nell'altro cellulare me li importa in questo nuovo e questo per le persone che hanno già un account sanno già che cos'è un account mentre in questo caso qua noi non abbiamo l'account quindi la prima volta facciamo non copiare adesso lui mi fa ancora verifica delle informazioni in corso è un po macchinoso all'inizio ma non vi preoccupate che solo per la prima volta a questo caso che vedete qua è perché l'ho messo sotto carica perché non avevo il telefono carico quindi altrimenti non mi riusciva il video bene siamo qui adesso lui mi dice non ricordi l'indirizzo email oppure creare un account io faccio creare un account mi chiede per me per mio figlio per gestire la mia attività io faccio per me se fosse una persona sotto di 18 anni bisogna che vi registrate per mio figlio e mettete anche la vostra mail di controllo io faccio per me in questo caso vado a mettere nome cognome che è facoltativo lo mettiamo e facciamo un nome a caso vabbè qui mettiamo il nome e il cognome in questo caso io ce l'ho già l'account non vado a creare un altro di nuovo che altrimenti andiamo intasare gli account e qui mettete nome e cognome e poi mettete la data di nascita il numero di telefono di riferimento e potete mettere tranquillamente un indirizzo e creare un nuovo indirizzo email l'indirizzo email poi servirà anche per ricevere dell'email servirà anche per quanto riguarda andare nel play store per scaricare giù le applicazioni benissimo adesso io vado a mettere il mio account bene io ho messo il mio account come vedete esperton e vado avanti poi devo guardare tutto quanto poi i dossi accetto e da qui su questo telefono qua al mio account quindi gmail sarà con l'email che abbiamo messo in questo caso esperton e l'account di whatsapp di salvataggio di whatsapp sarà quello lì l'account del nostro play store dove andiamo a scaricare le applicazioni sarà sempre quello lì poi possiamo aggiungere altri account gli account sono molto importanti segnatevi bene l'account che avete creato e la password che servono sempre se andate a cambiare cellulare se volete ricevere dell'email se volete andare a vedere l'email foto il calendario su altri dispositivi eccetera 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 segnatevi su un foglio se dopo ve lo tenete per conto vostro qual è il vostro account che è molto importante ok qui mi da servizi google mi da tutta la lista delle cose scordiamo e andiamo su accetto qui mi dice di scegliere il motore di ricerca in questo caso qua metto sempre google si è molto più quanti mi chiede se voglio inserire un codice ping io faccio salda perché non metto mai codice ping altrimenti poi se li dimentichiamo sono cavoli e adesso da qui mi dice usa sempre continua con l'assistente di google se vogliamo usarlo che l'assistente vocale facciano grazie però voi se volete mettetelo e serve per aiutare non so per dire aprimi la calcolatrice quanti anni a beethoven eccetera eccetera non so adesso sono domande stupide che mi vengono così per cui potete mettere il servizio google pay quindi se avete una carta di credito per registrare per poi pagare direttamente con nostro cellulare io faccio salda no grazie e adesso lui qua prepara il nostro smartphone bene qui siamo arrivati alla pagina iniziale che è così anche per tutti gli smartphone android in questo caso qua brondi è ottimizzato appunto con le icone grandi proprio per le persone anziane o per le persone che vogliono delle belle icone grandi e tutto quanto da dove partiamo partiamo da telefono che va bene per chiamare si preme il telefono poi metterò i miei contatti oppure la tastiera vado a fare 0 4 2 1 ok 8 8 eccetera bene e qua poi premo il verde o qui sul touch o qui che è più semplice il tasto fisico verde che vedete qua e rosso per mettere giù per andare nel menu premo la casetta e lui mi parte sempre dalla prima schermata che sarebbe la home home casa e sarebbe la prima schermata poi scorro di qua per andare a vedere contatti fotocamera galleria eccetera dall'altra parte invece ho tutto quello che riguarda le chiamate quindi figlia famiglia possono mettere di gruppi di telefono di numeri di telefono per poi chiamare più velocemente senza cercare nella rubrica m1 m2 m3 m4 m5 m6 sono le chiamate quelle che chiamo più spesso posso mettere una foto della persona che chiamo più spesso mettere il nome basta premere lì e chiamo direttamente quindi se volete preparare lo smartphone per i vostri familiari potete farlo tranquillamente bene se invece voglio andare nel menu a tendina dall'alto tiro verso il basso così e qua siamo nel menu a tendina tiro un'altra volta mi fuori a tendina completa che cos'è questa tendina sono tutte le cose che possiamo fare più velocemente senza cercare nel menu impostazioni internet ad esempio tiro giù vado su internet e mi collego al wifi voglio cercare il bluetooth bene non devo starli a andare su impostazioni e dove è andato a finire bluetooth qua ce l'ho già direttamente sono delle scorciatoie in modo che vado direttamente qui ad attivarlo ecco torcia non disturbare rotazione lo schermo dove è la rotazione lo schermo dove andare a vedere impostazioni display rotazione schermo no qui ce l'ho subito e questa è la tendina veloce anche per altre funzioni bene se voglio spostare un'icona da una parte all'altra come si fa così vale per tutti gli android premo sopra l'icona la sposto dalla parte che voglio in questo caso qua non c'è spazio e non me la fa spostare però qualsiasi cosa dovete fare con android premete sopra l'icona o sopra l'impostazione e da lì si apre un secondo menu in questo caso qua vedete voglio spostare skype più basso lo metto qua lui mi dirà vedete che si è creata una cartella quindi posso fare con una solo con un solo quadratino posso farne fino a quattro vado a mettere chrome qua ad esempio file li metto qua è così vedete quanto semplice voglio rispostarli bene premo l'iconcina e me la sposto fuori e la metto dove voglio stessa cosa per questo e posso spostarli dove voglio posso anche creare la cartella e spostare tutta la cartella da un'altra parte quindi è veramente veloce e rapido basta sapere fare le cose giuste logicamente mentre se voglio andare nel menu impostazioni tiro sempre giù la mia tendina la ritiro un po su vedete qua sotto c'è l'ingranaggio vado premere qua impostazioni e da qui partono tutte le impostazioni notifiche batteria spazio di attivazione eccetera eccetera bene molto semplice poi qui c'è whatsapp sapete che whatsapp si connette a internet quindi potete mandare messaggi foto i vostri cari tutto quello che vi serve e poi l'utilizzo whatsapp insomma lì dovremmo fare un video a parte anche perché si aggiorna sempre e quindi è sempre diverso bene signori io penso di avervi detto le cose principali del primo avvio quello per farlo partire e per iniziare se avete altre cose da chiedere scrivetemi pure nei commenti in caso farò un altro video per specificare solo queste cose qua e basta così io posso fare i video in base anche alle domande che mi fate perché altrimenti non riesco a ricordare tutto quello che vi può servire ecco bene mettete un bel like iscrivetevi al mio canale che è gratuito vedo tante 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 visualizzazioni ma pochi iscritti in confronto alle visualizzazioni se facciamo un conto che ho superato un milione di visualizzazioni o 2000 iscritti è un 2 per cento sopra giù e non costa nulla basta premere il tasto iscriviti siete iscritti e così potete seguire altri video attivate il tasto delle notifiche e grazie mille a tutti arrivederci